Noi andiamo a protestare, la Lega va a protestare contro la violenza messa in atto dal governo spagnolo totalmente ingiustificata, totalmente sbagliata, che ha determinato e che determinerà una spinta uguale e contraria dall'altra parte, quindi è il governo spagnolo che ha messo in moto questo meccanismo. Mi pare che la violenza del governo spagnolo sia stata condannata da tutte le forze politiche in Italia, compresa quella di sinistra, quindi è una manifestazione organizzata dalla Lega, non vedo che cosa c'entri questo con quello che avviene in regione Lombardia, qui da noi. Grazie, altre domande? Se non c'è altro chiudiamo qui.